Chi crede nel figlio alla vita eterna dice il Signore e io lo risusciterò nell'ultimo giorno Il Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù alla folla Io sono il pane della vita Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me Colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato E questa è la volontà di colui che mi ha mandato Che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno Questa infatti è la volontà del Padre mio Che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna E io lo risusciterò nell'ultimo giorno Parola del Signore Lode a te o Cristo Gesù prosegue il discorso del pane della vita L'Eucaristia che noi riceviamo ogni giorno Che alla fine è anche il pane del viatico Che ci accompagna fino alle porte del paradiso E poi aggiunge Chi viene a me non avrà fame Chi crede in me non avrà sete Mai Perché? Perché c'è la pienezza della grazia Che sazia l'anima E c'è la pienezza della verità Che sazia l'intelletto Io vi ho detto però che voi mi avete visto Eppure non credete San Giovanni alla fine del suo Vangelo scrive Noi lo abbiamo udito Lo abbiamo visto E lo abbiamo toccato Perciò possiamo testimoniare Che questa è la verità Cioè la parola che egli stesso ha scritto Allora Gesù è rammaricato Perché nonostante che lo vedano Non credono in Lui Tutto ciò che il Padre mi dà Verrà a me E che cosa dà il Padre al Figlio? L'umanità è tutta la creazione Tutto ciò che il Padre ha voluto che esistesse Passa nelle mani del Figlio Che amministra la misericordia Amministra la vita E amministra anche la felicità eterna Gesù diventa Il nostro Salvatore Il nostro Maestro È il nostro più caro amico L'amicizia è il modo di godere dell'altro E allora ecco Io non lo caccerò fuori Perché? Perché è questo che il Padre vuole da me E io compio Ciò che il Padre mi comanda Faccio la sua volontà E per cui alla fine Non sarò io A pronunciare il giudizio Quello del Vangelo Oltre alla conversione Proprio ogni tipo di malattia E la liberazione Dalla possessione diabolica Quindi era la verità Consegnata Annunziata con la potenza di Dio E questo Conferma La perseveranza della Chiesa Nonostante il martirio Anche oggi Non si sa perché Questi Demici Della verità Comunque Queste Dicono di credere In un momento In quello In quell'altro Ma sono tutte storie Portano dentro Un odio ancestrale Contro Tutto ciò che È Cristo E sa Di Gesù Cristo Odiano Non lo possono sopportare Ora Chi è che nutre Questa versione Così Radicale Piena Di odio Verso i cristiani È il demonio Ecco Allora E questi Stanno Dalla parte Del demonio E perseguono I cristiani Avete notato Dice San Luca Negli Atti Degli Apostoli Che siccome Era iniziata La persecuzione A Gerusalemme Allora Si avverò la profezia Che aveva detto Gesù Mi sarete testimoni Andrete Fuggirete da qui E allora Ecco Vanno Tutti i cristiani In giro Più o meno Sistemarsi A ripararsi Però gli Apostoli Restano a Gerusalemme Questa volta Non vanno via Devono Rimanere Nella città Santa Perché Gerusalemme È la città Di Dio E allora Essi restano Lì Poi Accadrà Tutto quello Che sappiamo Comunque In questo caso Si verifica Quella dispersione Dei credenti Che parte Da Gerusalemme La Diaspora È chiamata Cioè La dispersione Proprio Diaspora E fuggono Però Molti di questi Diventano Automaticamente Testimoni Di Cristo Altrove Nel 70 Dopo Cristo Ci sarà La Diaspora Invece Degli Ebrei Gerusalemme Gerusalemme Sarà assediata Da titolo Sapete Nella storia E quindi I giudei Saranno Passati A fel di spada Quei pochi Che restano Devono fuggire E si sono Sparsi Nel mondo Da allora E tuttora Rimangono fuori In Gerusalemme Sono tornati Alla fine Del secolo Scorso A costituire Un regno Di Israele Non sono più Gli israeliti Sono gli israeliani Cioè quelli Che cercano Una patria Ma non è più Quella patria Dei profeti Di Mosè Difesa Programmata Da Dio stesso E consegnata Di secolo In secolo Assistita Dal Signore Ora È Gesù Il Il maestro È Gesù Il Salvatore Allora Chi è con Cristo È sulla via Della salvezza Ma noi Sappiamo Dalle profezie Che anche gli ebrei Un giorno si convertiranno Come si è convertito San Paolo Da persecutore È diventato Martire Prima Apostolo Dei pagani E poi martire Gli ebrei Torneranno Sono comunque Il popolo Che oltre i cristiani Adorano il vero Dio E questo Conta Perché Tutte le altre Religioni Sono false Quindi gli ebrei Sono rimasti Nella verità Per quanto riguarda La fede Nel Padre In Dio Padre Per la fede In Cristo Deve uno aspettare E a questo Concorre L'esempio Dei cristiani Specialmente Durante L'ultima guerra Ma lo sapete Il Vaticano Si era riempito Di ebrei Travestiti Imbegnati Impiegati In tutti i modi Tutti i mestieri Facevano Tutti gli uffici Riempivano Per salvarli Migliaia e migliaia E così Anche tanti Sono stati Presi Come membri Della propria famiglia Da famiglie cattoliche E si sono salvati Quindi hanno capito Che i cristiani Hanno la carità Quindi somigliano A quei comandamenti Alla voce Di comandamenti Che appunto Annunciano Che è finito L'odio E l'uccisione Ma bisogna Amarsi gli uni E gli altri Come il Signore Il Signore ci ama Eleviamo a Dio La nostra preghiera Diciamo insieme Ascolteci Oh Signore In mezzo a noi E' questo Il mio corpo E' questo Il mio sangue Mistero della fede Il pane Il pane consacrato E il vino consacrato Si posa Sull'altare Non è Il nostro occhio Ma è la nostra fede Che vede Il Dio presente E' pane sostanziale E' il vino di salvezza Memoria Memoria della cena Memoria della cena E' sacrificio santo Di Cristo sulla croce La Chiesa lo rinnova Ininterrottamente Ininterrottamente Si compie sulla terra Quest'opera divina E per la sua parola Gesù è pronto a scendere In mano del Ministro Il popolo si prostra E adora il sacramento Con animo commosso Il cielo E' sulla terra E' Dio in mezzo a noi Si dona come cibo L'Eucaristia E' chiave Che apre il paradiso E fa vedere Dio E' tabor E' calvario E' festa del cenacolo Gesù E' in mezzo a noi Prendete e mangiate Cantate e ringraziate Gioite Ed esultate